San Salvo Marina, che bello! C'è ancora gente in spiaggia, bello! Eh sì, pomeriggi d'estate, qui stanno facendo dei lavori, stanno finendo di sistemare un po' tutto, è comunque sempre un bel vedere, sì sì. Eh sì, stanno facendo davvero un bel lavoro, hanno fatto un bel lavoro, ci voleva una bella sistemata. Bello! C'è gente, il sole è gradevole, è un sole di fine giugno, quindi insomma c'è, si sente. Eccoci, adesso andiamo verso il porto turistico lì in fondo. Sì, mi stanno finendo di fare anche una serie di lavori. Qui c'è un tratto di spiaggia libera, per fortuna ci sono ancora piccoli tratti, ma ci sono ancora, attenzione. Ecco qui c'è il tutto fuoco, senza vedere il porticciolo, il porto turistico. da vedere, da visitare. Va bene, ciao!